La penna significa scrittura, la penna nelle mani di uno scrittore significa creatività e promette di appassionare i lettori. Lui è Andrea Bartolucci ed in questo caso la penna è servita per siglare l'accordo di pubblicazione con la casa editrice Falco. Il romanzo Il nemico mi ha reso libero sarà disponibile in libreria in autunno e si svilupperà attraverso una trama in cui fra realtà e fantasia si incroceranno diversi valori. Il romanzo narra le vicende di Henry O'Neill, un ragazzo di 25 anni in cui l'ambizione viene offuscata dalla presunzione per un certo periodo della sua vita, plagiato da un mentore che anziché atteggiarsi da mentore diventerà un Falco. La storia è avvincente, si snoda in più parti d'Europa e vi terrà incollati al libro fino all'ultima pagina. Originario di Città di Castello in Umbria, dirigente d'azienda, Bartolucci realizza così la sua prima opera, ma con la casa editrice Falco è stato stipulato un accordo che ne prevede anche una seconda. È un'opera che merita non soltanto di essere pubblicata, è un'opera che merita di essere promossa per i contenuti e per la morale. È un progetto, come si diceva prima, che coinvolge il mondo della finanza, ma che combatte lo stesso mondo di questa finanza molte volte malata. L'autore attraverso un ritmo sostenuto, avvincente, attraverso una penna assolutamente sorprendente per certi versi, perché se è vero che è difficile investire in questo momento storico, è altrettanto vero che non è facile trovare delle penne, così come quella di Andrea Bartolucci, che in maniera assolutamente divina, mi permetto di dire, riesce a tenere, e questa è la nostra ferma convinzione, coinvolti, riesce a tenere attenti i lettori sulle pagine di questo romanzo. Quindi il progetto è nato perché un romanzo che è aperto, finisce aperto, farà sì che troverà nei prossimi, nel sequel, i lettori ancora di più di quelli che leggeranno questa prima versione.